Allora, game. Dov'è che si fa... Dov'è che si fa in situazione? Penso che se non c'è il multiplayer, poi. Beh, c'è tutto questo. Ah, new game! Ma è terribile quest'uomo! Ah, ma c'è gente col cappello! Allora, io faccio una femmina, allora, vai. Ma sono terribile queste persone. No, ci sono io, ci sono, faccio io. Come ci sei tu? Il nerd. Ollo, ti sei, grazie Ollo. Grazie, Ollo. Però col cappello. Ma sono tutte brutte, sono, queste donnacce. Ma sono i capelli. Svedesi, tutti me lo svedesi, appunto. Porra, che vuoi donnacce? Eh, fanno caccaro. Eh, ma devo startare il game? Non è che c'era il tutorial? Ma che tutorial? Ma che dici? Amici, io l'ho fatto il personaggio. Ah! Si è aperto Telegram, non so perché. Si è aperto Telegram? Non lo so. E' incredibile come cosa. Amici, io ho fatto. Io sto... Dopo la seconda guerra mondiale. Io ho fatto quello con il giubbotto, con la lana, perché ce l'ho io. Perché il mio display è in full screen, non c'è borderless? E' terribile questa femmina. Non c'è borderless? No. E' un po' che... Ah, ma è abitato nell'89. Ma come... Ma porca puttana! Mark, prova a gioinare. Eh, non è vero che è buona a merda. Prova a gioinare. A multiplayer, aspetta. Posso unirmi, Lieza? Puoi unirti, vai prova. Ho fatto ma non sta succedendo niente. Ma sono un uomo! Non devo fare. Un new game devo fare, giusto? Ma che cazzo sto vedendo io? Rizar, ti giuro, mi sto unendo, ma non è vero. Invita a una lobby, aspetta, prova. Una lobby farmaceutica. Cane di guerra, grazie, cane. Grazie, cane di guerra. Ho accettato l'invito, non sta succedendo niente allo stesso. Prova a entrare tu nella partita. Fai partire la partita, entra in... Che cazzo sto vedendo! Ma io sono già dentro il gioco. Sto saltando, sto giocando. Può sapere quello, lo. Mi sono così, si vedete. Eh, ma non... come faccio? Scusa, entrare... Non sapevo, non c'è il multiplayer. Sì che c'è il multiplayer. Non c'è, non c'è, aspetta. Invite, aspetta, posso invita... Ah, aspetta, devo invitare questi pro... Ma io... Ma a me l'avete invitato. E che ho accettato non sta succedendo niente. Forse non si può dall'inizio. Io voglio... Perché non me lo dice? Non ho senso. Questo comunque... È bellissimo, sai? Non lo so, cane. È la prima volta che lo proviamo. Sì, è la prima volta che lo proviamo. Grazie, Gigi Proietti. Grazie! Grazie, Gigi. Un grande fan io. Voglio modificarlo un attimo. C'è il blur. Tantissimo, c'è. Mamma mia, se mi fa schifo qua. Ma si può neanche togliere. Ma si può neanche togliere. Sfonduto? Ma, ma c'è un blur, sì, si può, si può, si può. Tu è sulla grafica? Sì. Porca miseria, per abbassare la sensibilità del mouse devo cliccare 50 volte. Però davvero, forse devo andare dal 100 al 50%. Ma non si può giocare con... Eh, sto cercando di andare avanti un po' nel gioco. Beh, forse devo andare avanti un attimo. Sto andando avanti a fare le prime missioni, ma... E' una pistola. Vai, ma si, eccolo qua. No, no, non è questo. Ma io la sensibilità la voglio alzare, pensa un po'. Ok, molto meglio. Ma te sei, il motion blur, ecco qua. Vaffanculo. Ma, Luc, sensibilità, è già al massimo la sensibilità. Può anche chiudere le porte, ma il figlio. No, non è così male, comunque, sensibilità. Eh, la voglio alzare io. Ho caccato addosso e solito io... Lo so super di... La grafica è veramente molto bella. E' molto bella, sì. Eh... Sembra una mod di qualcosa. Amici, però... Sto andando avanti, ma comunque non posso unirmi. Aspetta a fare che cosa. Eh no, sto andando avanti perché non... Ho detto... Perché non ci fa invitare. Ma, eh, aspetta, abbiamo provato. Ma no, abbiamo provato fino adesso. Tu non l'ascolti? Non si... Non ci si può... Né mi posso unire, né mi funziona l'invito. Quindi magari devo andare avanti con la storia. Grazie, posso invitarmi. Ma sì, ma non accetto. Se accetto, non... Non posso entrare. Aspetta, non ti... Eh no, né se mi unisco io, né se accetto l'invito. Voglio vedere. Magari Eliezer... Cioè, non so. O io, Eliezer, ma... Guarda, non succede niente. Ho accettato, non succede niente. Succede una favazza di nulla. Allora bisogna fare la prima missione... Eh, ma la missione non c'ho... Non credo, te lo dovrebbe dire... No, te lo dovrebbe dire infatti. Non c'ho niente io qua da fare. Aspetta. Beh, le cose segnate sulla mappa le ho già fatte. Non posso impunirmi. Eh, allora forse che non si può unire, forse bisogna andare avanti, eh. Eh, ma non... Eh, ma quello... Cosa bisogna fare? Ho trovato... Ho trovato delle scarpe. E fin dall'inizio si può invitare. Ecco. Eh, ma si può invitare... Ma poi... Eh, ma funziona? Perché? Perché si può invitare e possiamo anche noi. Devi farlo a una safe house, gioco online. Eh, dove? Sono in una safe house io. La prima è una safe house. La prima è una casa. Non credo. No. Questo è una... Questo è un schermo intero! Dove li fanno i borderless giochi! Finesse senza bordi! Noo schermo intero! E fa schifo! E' stupido! E' stupido! E' stupido! Si incazza con noi... Si sminche tutto ogni volta! Si sminche! Pazzo! Per caso matto! Che chill! A parte che si può mettere il borderless... Noo... Ti compare la... Come scusa? Windowed? Ma Windowed non è borderless! E' di solito si! E' di solito si! E' di solito si! Però ti... Ti compare comunque la barra di Windowed sotto! Ma non ho capito cosa bisogna fare quando hai preso... Ma c'è un campo da calcio! Ho perso... Le istruzioni! Lo so! Io sto andando avanti ma non c'è un cacchio! Comunque questa è la safe! Vabbè sei qui tu! Forse a me non mi sembra tanto safe! Ho visto che c'è qua le porte sfonde! Comunque io ho zero munizioni nella mia pistola! Eh però se guardi la mappa ti indica una... La carta! Ho così un foglietto che sembra che il foglietto vuoi andare avanti! Ma fate le robe... Un po' di calma però! Un pistola c'è un po' di cazzo qua! Non puoi fare... Amici buongiorno scusate un attimo adesso... Adesso facciamo l'amore eh! Un attimo! Io stavo già facendo l'amore comunque! È bravissimo! Guarda come si fa da poi che hai preso il binocolo? Che mi son perso! Ah posso spegnere anche le luci? Ma che ne so io sto raccogliendo tutto! Ma non lo sapete che ho potuto comunque eh! Ah posso anche salutare! C'è un binocolo! Una mappa! Ottimo! Scusi! Allora c'ho la mappa! La safe house! La safe house è dove sono io! Ma infatti c'è! Ma infatti ragazzi ci dobbiamo evitare! Questa è la safe house sicuro? È 9 metri dice da me! Se guardi nella mappa è... Si è la casa! È la safe house! Non ho chiedo! La safe house a me non dice questa! Io sono in un altro posto! O sono nella safe house? Non si capisce! Proviamo di evitarci da dentro la safe house! Posso zoomare la mappa davvero? Non posso zoomare la mappa? Non più di così! No! Lamentati di tutti i problemi del mondo allora! In Africa le persone muoiono davvero? Cioè tra le guerre! Le persone muoiono in Africa? Eh? Stavo scherzando! Ma l'avete visto in casa che c'è una specie di droide? Di fame? In Africa! È una specie di droide! Sì quello per terra! Sì quello per terra è una specie di droide! Eh sì! Frank De Rossi grazie! È un Metal Gear! Sì è un mini... C'è un attimo qua tutto questo! È un cane! Vabbè giusto! Grazie Francesco! E anche Tiagore! Grazie mille! Quindi questa è la safe house! Grazie a tutte! Allora amici proviamo a invitarci un attimo da qua! Eh ma io ho già invitato da qua! Eh lo so! La session è offline! Il player è non potuto join! Per creare una nua session online? È vero! Ma io l'ho iniziata offline quindi! No io l'ho iniziata online prima! Potevo invitare! Ma io l'ho accettato! Ma io l'ho accettato! Esco! Ma non mi ha detto una fava nessuno! Di ste robe! Ah c'è multiplayer direttamente nel menu! Ma poi qua da lì allora! Non voglio fare un game! Voglio qualche... Ma a me dice di invalid game station e... No aspettavo faccio un check! Ah per findare quello è però! Scusa eh! Ma io posso... C'è la roba multiplayer! Eh adesso posso invitare io! Ma anche io potevi fare prima! Ma non potevi... Potevi affermano anche prima! No prima o poi mi diceva di no! Guarda io posso invitarvi così! Eh ma io adesso... Tocca! Ok aspetta eh! Connecting to all... No a me no! A me no! Eh eh... Eh ma non è entrato! Eh io no! Non è che è da due! No è da quattro! Allora che ti devo dire? Non mi fa accettare! Non mi fa accettare di nuovo! Prova a continuare! Prova a continuare! Prova a continuare! Non devi dirti! No non... No no no! Lo so! Non funziona! Ma dove siete voi in questo momento? Niente nella casa! No è uscita nel menu principale! Ah ok! Aspetta! Prova! Ma sei terribile tu! Prova a evitarmi! Ma cosa fai con l'arma? Stai fermo! Cosa? Stai facendo... Metti giù! Tiri su! Metti giù! Tiri giù! Che fastidio che mi dai! Guarda! Espri! Subite! Ok! Ok! Bisogna esserne nel menu! Non bisogna esserne nella partita! Sì sì sì! Adesso va! Stai! Intuitivo! Andiamo! Ma che ha senso! Se nella partita giustamente non... Ma non è vero! Perché non dovrebbe... Sì sì! Ah! Ma chi sei? Ma sei... Un ominide! Ma no! Sei quello di Scooby Doo però con gli occhiali! Ma avete fatto tutto quanto avete fatto voi? No! Devo andare a... Ma lo vedete Esprit che fa su e giù con l'arma? Sì! Ma sei un... È un indiano! È un indiano! Che fastidio! No Esprit sei veramente iperattivo! Ti posso succedere! È un indiano sei! Così meglio! Ma che indiano! Ma che cazzo di figlio hai visto! Guardalo! Edwight... Edwight Schrute da giovane! Edwight Howard! Farsi del loot! Io devo andare alla... Ha smesso con l'arma! All'auto della polizia diciamo! Amici! Io sto prendendo tutti gli oggetti che... Sì! Aspetta Polizia! Aspetta Chiesa! Sì sì sì! Quanto non abbiamo... Lo zaino! C'è un po' di roba! Prendo tutto! Ci sono anche nelle macchine... Nelle macchine fuori eh! Ma avete fatto le robe in casa voi? Eh sì! Nel mio mondo sì! Sì! Perché tanto abbiamo già la pistola! Però sto rifacendo anche qua! Per sicurezza! Io non ho le munizioni però! Eh no! Devi andare là con la pula! Ah! Ah! Io ho due pistole adesso! Vuote eh! Per carità! E' un survival? Eh! E' più o meno sì! Mi sembrerebbe di sì! Poi... Magari c'è un twist incredibile! Ah! E' vuoto! Che... Che situazione! Allora! E' un survival con gli zombie Esprit! No! Credo Moro! Attenzione miracolo! Credo proprio Moro! E' un survival con le Volvo Esprit! Con le Volvo? No! Le macchine dici Moro? Eh sì! Eh! Ma che ne so poi eh! Quanta roba si prende proprio! Ma è già accesa la macchina della polizia! Ah! Come si usa? L'hai presa la munizia Moro? Eh! Aspetta che! Devo prendere... Le gas tank! Le gas torrenteriti! Sono lì le munizie! Ma si fa! Allora! Io ho messo... Ok! Ho messo il binocolo nella... Com'è il menu? Io non so niente! Eccolo qua! Binocolo qua! Metto il medikit sul 7! Ah! Ottimo! Questo mi piace! Ah il medikit c'ha anche eh! Dov'è? Il symbol for stay! Hai ragione! Adesso sei scomodo! Potremmo fare che potete trascinare! Emergency Flare! Scusa! Adesso io ho due pistole però ragazzi! Scrutto! Questo è il medikit! C'è un'attività di esplosivi! Lo facciamo esplodere! Vabbè! Sei pazzo! Che com'è? Io l'ho prese! Andiamo ad alto la polizia! Venite venite belli! Ok! Un gioco di cucina! C'è un robotone distrutto qua! E anche dentro casa c'era! Che zitto! Scusa! Si! Volevo dire! Amici qua dentro c'è roba! Munizioni! Un robotone! Quante munizioni! No aspetta! Ho fatto take call! Non è che ve le rubo! No! Aia che mi ha spinto la porta! Si! Ma posso guidare? Che occhio a sta cosa! E' meglio ma! Meno male! Aprite tutte le portiere! Chi si sa mai! C'è qualcosa! Vi saluto amici! Ciao! Vado a vedere se c'è qualche! Ciao! Con la C apri la rotella delle motte! Posso fare anche così! Ok! Tu! Marco! Esprit! Sono forte! Ti prendo Marco! Mamma che potenza! Ti piaccia Marco! No sei terribile! Ah ma sei una donna tu! Ma che... Tu non fai fatto! Eh si che sono una donna! Tu non fai fatto! Dove andiamo poi a caso? Inseguiamo la strada! Eh allora aspetta! C'abbiamo una mappa! Ma scusi c'era... Eh bene la mappa non è che ci sia... Andiamo a... Traietta! C'è la chiesa! Dove li vedi i nomi? No? Inseguiamo la strada! Ti sembra Roberto! Ma tra l'altro cos'è il Giappone questo? No è Svettio! Ma questo gioco ha una trama e un survival esplorativo! No è tutto forte! Amici la trama... La trama è che noi siamo sopravvissuti... Ti andrei dietro però! In Svezia! Anni 70! Eh aspetta ti dico Marco! Ah face wave point! Andiamo qua! Marco Marco che cazzo spari! Sei cazzo crazy! Sono rotto! Che dovevo fare? Ma è fortissimo! Aspetta! A parte che sono morto nella vita vera! Ma che put***e sono morto si! Però molto bello! Dieci munizioni me le ripiglio! Amici bello! Comunque dicevamo siamo sopravvissuti... A un... A una... A dei robottoni giganti! Chi è che ha detto zombie Karim? L'abbiamo detto noi? No! No no no! No l'abbiamo detto noi! No no! No no! S'ho detto zombie o sbagliato? Dei robottoni giganti? Io? No! No! Robottoni! Robottoni! Ha dei robottoni! Aspetta! C'è una macchina lì davanti! Dove? Ma dove stiamo andando? Mi ha indicato il... Comunque c'è... Le macchine si saranno rivoltate come al solito! Facciamo così! E' lì! Facciamo stealth! Telti! Stelti! Spendi quella torcia! Ma mi sono incastrato nei tasti! Oh! Dove siete? Mi spari subito! Spariamoli! Ma che dolore alle orecchie! Per cortesia! Io ho posto l'altirallo! E' la bici! Ho detto io! La voglio rubare! Cosa è la bici? Eh non si può! E' a terra! Aspetta! Dove è audio! For cortesia! Ma che non si può prendere lì? Io ho questo ancora! C'è incredibile! La mitra! Quella del padre! Il mitra! Questo qua! Io l'ho abbassato! L'ho abbassato dal mitra! Questo qua! E' perchè si abbassa di 10 in 10 l'audio! Mio pastidio! E' solo pazzo eh! Come abito! Sai che è strada poi! Non andai fuori strada Morenni! Andiamo nella strada! Andiamo nella strada! Non c'ho mica una macchina che se vado fuori strada! E' una church! Come si chiama in italiano? La chiesa! La chiesa! La church! Aspetta! Ah! Un cane! Ma lascelo stare! Un cane robot! Allora chi se ne frega! Ma astarda! Dobbiamo sprettare! Vabbè! Ma che pavo di audio! Guarda che secondo me ne abbiamo un sacco perché ci sarà da sparare un botto! Pavo di audio! Allora! Vabbè metto a 10! Amici aspettate! Mi da un segnale in avanti eh! Quello è mio! Quello è mio! Ah ok! E perchè me lo segna in giallo sotto? Ah no! Perché c'è un mostro! Ecco perché! Eh! Sta arrivando! Sta correndo! Chi è? Aspetta che sto facendo così io! Con due! Con due! Attenti! C'è un mostro! Ho sbagliato! Amaci! 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 Diventa un mitra la pistola se clicchi veloce! Eeeh! Si faccia così! Solo che! Perchè noi stiamo andando lì? Ah perchè! Ah perchè! Eh ma c'era il segnalino dall'altra parte! Quindi ci dici che era la stradina? Non c'era il segnalino d'altra parte! Non c'era il segnalino d'altra parte! Amici mi fate cambiare un attimo i... Eh era noi Morelli! Eh era proprio il paese quello! Eh si! Proprio! Aspetta! C'è World Mission The Hunter però! Il blog! Sul nostro... The Sanctuary! Andiamo a Sanctuary! Investigate The Church! Andiamo lì! Amici aspettate un attimo! Ok! Aspetta c'è anche un'altra cosa! C'è anche The Hunter dove siamo noi adesso! Aspetta! The Hunter è quella che abbiamo trovato adesso! Ad The Hunter è il nome di Kurt... Bjorgnes! Il dettore Bjorgnes! Amici aspettate un attimo! Siamo fermi! Sta diventato Giorno! Come faccio ad abbassarmi con C? Non trovo la... Ok! Dice che la casa del tizio del reggassatore qua vicino! Bisogna trovare il suo compaggiamento! Prima di c'è un plucide! E' probabile! E' qua vicino ha detto! Quindi sarà qua in... E' sarà sulla via limpia! Si vedrà qua si vedrà no? Andiamo lì! Dobbiamo andare alla ferna miseria però eh! Quella miseria però eh! Quella noccia! Ma carino che bisogna investigare così! Io pensavo fosse a missioni alla... Strange Brigade! Secondo me è su questa stradina! Eh... Si trovi vicino alla macchina! Punque graficamente è vero! Quelli sono i magazzini! No non è male! Graficamente è molto carino! Cioè non è eccelso ma... Arrivo arrivo! A parte che... Fino adesso... Fino funziona anche bene! No ma adesso è perfetto! Abbiamo visto due robe! Questa è la macchina! Questa è la lettera! Allora è di qua o di là? Allora... La macchina girava verso sinistra! Seguitemi! Eh ma anche di qua... Vabbè con la macchina attivamente va sulla... All the door! All the door! All the door! All the door! D'altro vediamo una cosa! Mark! Ehi! Sai cosa sono questi pali? Dove sei? Lungo la strada ci sono dei pali rossi! Aspetta che mi sono aperto! Arriva! Anche io lo so! Però forza sei in Trentino! Ah queste cose... Servono per la neve! Bravo! Poi vi sfoglierò una cosa... E non è vero! Cioè in realtà dovrebbe essere vero! E non è vero! Grazie mille! Eh aspetta... Sto cercando di svalicare qua... Per vedere se c'è qualcosa... Poi torna indietro! Non c'è una fava! Tutto più alto! Non c'è nessuna casa! No niente! Andiamo... Dice che... Magari era più avanti! Comunque quei paletti... Quei paletti ci sono anche da me che non sono in montagna! Eh ma servono semplicemente da me! Magari servono ad altre cose! No no! Servono solo... Infatti... Ho anche sto... Domani forse! No ragazzi se è domani! All'istruttura di scuola guida ha detto... Eh boh! Se non vedete FIFA domani sera! Perché magari Corvo non c'è! Lo facciamo settimana prossima! Sì! Una sua casa è sempre poca di vita! Saltiamo una settimana! Non è di qua magari? Ma sulla mappa non c'è niente vero no! Qui c'è il percorso! Amici non ci dividiamo troppo! Ma c'è la stradina ma effettivamente! Eh sì! Qui c'è la stradina! Aspetta! Guarda un attimo qua avanti! Ci dividiamo troppo che se no ci brega! Adesso ci vediamo tantissima distanza Marco! Non puoi perderti ma che è possibile! Ma non per perdersi! Ma prendiamo il motorino! Perché sennò siamo da soli e parlerò! Abbiamo un motorino! Non credo si possa! Buongiorno Flower! Io vorrei un veicolo! E tra l'altro! Non c'è una sega comunque! No! C'è l'opzione per mettere le voci in inglese o in svedese! No! Ma io non l'ho mai sentito! E non ho sentito ancora nessuno parlare però! Eh beh! Siamo parli all'inizio! Se saluti non parla! Andiamo alla chiesa! Andiamo alla chiesa dai! Andiamo alla chiesa dai! Andiamo alla chiesa dai! Fanculo che c'è stato di merda! Dovremo metti su casa! Birknerk! Fai la messa su un albero! Non si vede! Fine settimana prossima! Qualcuno verranno Vegro a fare un girello! Oh! E li paro! Per adesso non ho programmi! Che cacchio! No! Purtroppo non posso! No! Come mai Moro? Ci contavo! Somma è di là comunque la sua casa! Da parte il posteriore sono andati noi! Ovviamente! Non c'è stato ieri FIFA! No! FIFA ieri non c'è stato perché non c'era corne! Ma domani potrebbe non esserci Corvo! Quindi in caso va settimana prossima! Invece c'è cosa! C'era della cosa di droga qua! Un giacchettino giallo! Aspetta! Ma scusa perché non l'avevo visto prima! Scusa un giacchettino giallo! L'aveva già messo? No! Ma c'era che? Si vede! Il suo profile! Profile! L'avevamo aperto qua! Ah no! Io l'ho già preso! Eh no! Però non me lo da! Forse è 9! E a me è adatto! Guarda! Ma non è giallo poi il bianco! Ma scusa! Aspetta ma abbiamo delle schifo! Ma io ho dei pantaloni! Non lo voglio niente appunto! È bianco! Ma è giallo! Io ho dei pantaloni comunque! Ah è tutto diverso quindi! Ma dove li indosso? Scusate! Profilo! Profilo! A me mi ha dato una giacchetta ma non me l'ha data! Come? Pantaloni! Ma che schifo! Sono metà gialli e metà neri! Li tengo! Comunque la missione dice che la casa è qua! Mi vedete amici? Si è la macchina però non si vede! Ehm... Sarò che non si vede! Ma guardami se mi si vede! Cos'è? Pantaloni gialli e neri! Gialli e neri! Da skinhead! Sì! Questi qua ho trovato io! Ma tra l'altro! Ma no! Ma dai! Ma stai lasciando le impronte nell'asfalto! Anche tu Moro! Ma come? Abbiamo i piedi cacati! Ma Marco ma ti sparo nel ginocchio! Ma che schifo! E non le impronte di terra! Eh ho capito! Le ho trovate un po' profonde! Ma che schifo sto vedendo! Ma non sparare che mi spacchi le gambe! Ma sei scemo! Stanno sparando! Eh no! Voglio fare Don Matteo! Voglio questa bici! Dammela! Andiamo avanti! Andiamo avanti! Mi spusate i magazzini! Vado! Questa è la sopra la casa di partenza! Eh ma che parte! No! No! Ho visto un simbolino! Amici vedo il simbolino degli misti! Stent! Stent! Sono tre vicino alla chiesa! Scendete! 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 Guarda l'erba che si... Guarda! Ragazzi! Se dopo diventa The Mist io godo! Guarda l'erba che si appiattisce quando passa Moro! E' che arrivano i robottoni dalla nebbia! Fantastico! Perchè? Non sparare barro! Perchè? Perchè? Mi senti di testa su! L'ho rotto! L'ho rotto! Sono fortissimo! Cosa ho sentito? Eh! Boss! Mica Boss! Eh! Infatti ha fatto... Angela Dress! E non è quella che abbiamo... Cioè! Le note... Forse nel log! Aspetta! Ma l'ho colpito da dietro! Diamo una nota eh! Ah! Collectable! Mission! Aiaia! Avevo il mitra! Ma giustamente siete un bastardo! Sei stato! Ma che... Ma che mi devono fare? Aspetta! Forse abbiamo anche altra roba comunque da leggere! Non sta fermo! Eh! Adesso era un po'... Esplose! Esplose! Non sono muniti di un bravo direi! Quindi non è buono! Te li dà quelle che li hai spazzate dietro! Chi è? Oh! Non so... Che c'hai? Che c'hai? Che c'è sempre in acqua? Eh c'è uno che... No! Se vanno la nebbia! La nebbia! Vedi! Ve l'ho detto! 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 Non puoi entrare? Ma non ci puoi entrare! Non ci puoi entrare! Non ci puoi entrare! Non ci puoi entrare! Scusa! E tu sei fuori... Esprit! Ok! Andiamo! Prezzo di questo titolo sapete che non mi ricordo! Quanto costava su Steam sto gioco? Su Steam... Credo abbastanza! Su Stand Gaming 23€! Ma c'è un letto! C'è qualcuno qua dentro! C'è qualcuno qua dentro eh! Sicuro! Vedi quanto è un cappellino ho trovato! Non si può chiudere la porta! 30! No 30! Pessibile! Ah! Un'auto c'è! Come si vedeva un'auto Morelli? Aspettate perché voglio vedere... Ah quello lo prego si! Ma qui è pieno... Ma quanto è Muniz? Ah la radio! L'ho rubata la radio! Amici qua ci sono una roba noi! Ma quante radio? C'è una Secret Place con un... Ma qui nella chiesa? Si! Con un... Un fucile! Aspettate la mia! Ma ho preso delle scarpe gialle! Ma quante radio sto rubando io? Chi è davvero di radio! Questo è il mondo di tutto! Di flare! Sarà sopra! Oh che belli sti pantaloni! Mi tengo questi! Ma un'altra giacchetta! Un'altra! Ma dei guanti! Un'raggio preso! Sì! Ho trovato il fucile! Tanto nel log! Sopra! Ci sono le mission! Ci sono le collectables! Ma ci sono dei... Vito cos'è! Ma no! Ma ci sono dei casi! Ma non abbiamo colpi però! Ma che dici! Edmoor! Sei pazzo! Scusa! Scusa! Scusate 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 Ma non abbiamo colpi Voglio andare ovest alla farm I colpi non sono quelli No? Eccoli qua qua dietro Era qua era Ah ok, sono quelli blu Un sititore Devo vedere sopra A sopra c'è un altro fucile Ehm, sarà quello col mirino Quello piccolo? No, ce n'è uno Quello che hai preso lì nella scatola e qui sopra c'è un altro Che paura! Chi è che mi ha suonato l'organo? Che stupido Chi è che mi ha suonato l'organo? Uno sopra sul campanile e uno sotto il campanile Sono due diversi Uno è il pompa e uno no Perché è sopra il pompa? Ho preso delle scarpe gialle Non ce le ho scusa Quindi a volte non te le da Ma non sono gialle Scusa, sono doloroso Ho dovuto saltare io Ha il fucile sopra Qui C'è un senziatore là Noi stiamo attirando a noi tutti i robottoni C'è un senziatore a me, non c'è un fucile Perché nelle casse credo sia random Da me c'è una pistola Dici che sia random? Nelle casse è sempre random Ok Amici ma io ho rubato tipo 4 radio Le butto Lo sto sentendo amici Ogni volta fa la musica diversa Cosa mi servono tutte queste radio? Le butto io ragazzi Le radio? Maga ne so Ne ho prese 16 le butto Eh ma quanto quanto? Siamo un po' eccessivi Ah serve un'esca la radio Serve come esca E dai Ok amici se avete il silenziatore alimentare Lo potete attaccare, non so se l'avete già fatto Ma si funziona buona Dovresti averlo già nel alimentare Io l'ho trovato prima A me non l'ha dato Sorello E non posso Ma che pippo Del silenziatore tu Eh si è una piccola cappellina Eh Fai tasto destro A me c'ho solo un fucile E c'è il remove potassium non è mai basto E io ne ho due Allora l'hai già messo Forse l'hai già messo Eh ma perché Ma perché tu C'hai il fucile dove ci può andare il silenziatore Eh appunto io c'ho fucile pompa E ma strano che non l'avete trovato voi altri E' diverso madre E' randomico loot Poi qui c'è una mappa C'è una mappa C'è una mappa Una lavagna qui Una lavagna qui Eh ma è scritto in Svedese Poi L'ho detto prima io L'ho detto prima io Insomma Ma sei scemo Tu sei scemo Tu sei scemo Ma sei un imbecile Cappo Jäger Cappo Jäger Grazie mille Grazie mille Comunque se leggi Se leggi Te puoi dire Nel log Te l'ho scritto comunque Ma c'è un cavo Zitti Zitti Siamo ad agio eh Ma quindi cosa abbiamo concluso qui Eh Ma è un camion di trombe Ok Eh scusa eh E' vero però Un camion di trombe Ma questo è il problema Ma questo è il problema Su un gas tank che ti ho trovato Perché c'è un camion di trombe Una mascherina Volevo fare anche idea No Ma su The Hunter Aspetta Mission items No Mission items Scusami E' un attimo Allora C'è uno indirezionabile qua Aspetta che devo mettermi La maschera bellissima Dai dietro al sedile del passeggero del cane Vabbè Non vedo niente Ma che cazzo Mi sono incastrato Ma si metti Marco No mi hai spinto dentro la texture prima Rispingetemi Marco Niente siete casali tutte due Ma io sono a posto No ragazzi dai Marco Non posso uscire Aspetta Fatemi esplodere Ma sei invisibile Marco Sei intangibile Ehm Ehm Ah Vabbè Mi ha perso Marco Vabbè adesso E' niente Adesso ho proprio niente E' niente E' niente Sei zitto? Ehm No Non puoi far niente Lasci di entrare Evidentemente Palle ma perdono le cose Ma c'è uno morto qui C'è uno morto Ma è pieno di roba Ehi mi hanno visto Shhh Shhh C'è un ribandello Zitti Zitti Guarda qui c'è uno morto Mi vedono Aveva Un ribandello Non c'ha niente Anche questo Poverino Visto c'era qualche Ah c'è una cassa Ma dove sono? Ma dove sono? Dall'inizio Eh sei lì? Ma qui non sa Ma non devi fai continuo Devi fare riunisciti Marco Eh mi sono riunito Mi sono riunito Mi sono riunito Mi sono riunito No aspetta Marco Facciamo una cosa Provo uscire che ti invito da dentro la chiesa E poi ti puoi entrare dalla chiesa No ma ho tutte le robe che avevo prima Semplicemente devo arrivare qui No Marco Eh se ti provo uscire mai ti ti ho sposto dalla chiesa Provo uscire Ma chi se ne frega Vabbè ma ci metti due secondi ad arrivare qua eh Dai Proviamo Quanto ti costa? Non credo cambi niente eh Mi stai solo facendo rifare questa strada secondo me Eh per questo ti farò subito Per non fare più strada Proviamo fa così Che sono nella safe pause in questo momento Che ti invito a restare Mi manca poco per salire di livello Un giacchino Un giacchino Invece sto reinato qua Ah non funziona se questo vuole la safe pause Mi bisogna rifare ogni volta il gioco Cioè non vuol dire No beh le robe le hai però Sembra interessante il gioco Adesso vediamo questo Perché il personaggio te lo salva a te fortunatamente Quindi te entri con il personaggio che già hai Eh però se bisogna ricominciare sempre da la Adesso arriverò Si fa una corsetta Si sarà il monopattino Non è che posso anche riluttare tutto? No quello no Cioè le robe vuote Eh Ma Eh Sono orribili quei guanti Adesso faccio un banco e mi cambio tutti i vestiti E' a posto Ma no mi sono spawnati i mostri Ma non me ne rocco Corri mar corri La miseria Mi lanciano le gambe veloci Eh ma c'è un po' di lavoro comunque Questa roba tipo Quei cazzo non è fila del tank qua di Cazzi questo è un problema Lut 12 su 17 comunque siamo nella chiesa Quindi non abbiamo trovato tutto Sparano Ah perché è molto nascosto comunque Ma questo Questo non l'aveva mica visto Figler Mici questo è un problema Ma c'è questa esplosività? No Ho fatto una brutta cosa Rally? Rally? Eh sto scappando senza ignorare Già strafronte cazzo Già strafronte grazie mille Morelli Già strafronte Ok ce l'ho fatta Sono il campione Oddio ok Marco sei ancora in pericolo? Non ho una roba da fare qua però non me la fa fare Ok posto posto No adesso C'è si mi da il simbolino che qualcuno mi sta inseguendo ma non lo vedo Ah guarda mi da il simbolino di la del del cacciatore credo No è inizia la missione può Oh è dietro è rimasto dietro Vivo vivo Eh no ma ti porta la macchina dove hai Eh dove hai messo il Ma magari c'è da fare altro perché se tanto mi da lì la missione Questo rumore Perché forse Indica sotto il sedile Ma magari sotto il sedile Ma sei palla La casa? Ma no è per forza di qui la casa perché No perché ti l'ho pensato io Ho di nuovo le munizioni qua io Ho anche il cecchino il coso il Si il mirino non il cecchino Va bene andiamo avanti Aspetta Magari posso prendere la macchina e andarmela a sgaggiare forte con i miei amici Fammi vedere Eh direi Fammi vedere la cosa Io adesso ho il cecchino o il mirino Ah log The Hunter ok Io voglio vedere I collezionabili Non c'è niente qua Ma gli altri giocatori sono NPC quali? The Hunter Quali Bejo? No siamo noi tutti Gli altri sono Cioè se intendi i robottoni si Quelli sono i nemici NPC non ce ne sono Non è un gioco online è un gioco proprio Ah ragazzi è sud di là bisogna andare Ok Più di là dove? Verso nord bisogna andare perché c'è che... No ho sbagliato È verso nord e verso... Perché il coso qua si chiama il monte qua Si chiama Bjorknaskuggen Ah c'è il cerchio Ah non certo Solo è della montagna È vicino a Bjorknas a sua casa Quindi c'era il monte Sotto il monte sarà Eh sto andando su nel... Nel monticello io Dove ho trovato la strada io invece Lì sarà qua intorno Vado con il Moro Eh è un bel possibice Mi sono ricastrato dentro le cose della chiesa Mi sono ricastrato Allora poi poi ho un po' d'azione qua FATEMI SOTTO Questo è un Pirla eh Non posso mai più sparare io Nella mia vita proprio Eh non ce l'ha fa qua però eh No io sto seguendo la strada vediamo morerebile Io sto seguendo i pali della corrente, di solito cortano sempre a qualcosa Ah beh, giusto 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 Ma non siamo soli nel bosco, ci lasciano una chiamata Può essere quello là della... Nella costa, sopra a nord È così lontana casa, è da vicino È vicino alle palle, magari vicino in macchina voleva dire Ah ecco... È giusto che è avuto in macchina lui Eh Quindi è giusto che era vicino in macchina Ma che saranno 5 minuti Che come ho visto? Qui c'è un mare È un lago? Il bosco ti crei Guarda Amore quando è bello Fai un terriccio, un letto di catrame, ti fai Non c'è neanche una nave, non c'è niente Ma guarda che sposti tutta l'erba quando passi È una casa qui Eh sì, lo so, c'è il villaggio È una casa di cose Vabbè andiamo al villaggio Dove andare... fallo, andiamo alla pattuglia È un lago salato di proporzioni colossali Piripipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Scusa è venuta benissima Questa qui? Eh si è uscito fuori c'era Grazie Torfei Grazie Luca Vado, vado, vado Corro Corro Eh ho visto C'è qualcosa sopra Sul tetto Indica l'omino sopra Amici ma se il pompa io ho quattro poli C'era qualcuno qui Sprecati tutti Ho fatto thumbs up, scusate No, non ho sparato quel pompa È partita la musica di Stranger Things Moro, non diamo l'ultimo tutto quanto Tutta tutta State attenti, state attenti Ma la casa è uguale all'altra, ragazzi Ma è uguale identica all'altra Identica uguale È identica ma uguale È completamente diversa È uguale ma veramente identica dentro Moro Ma questo Ho la carabina Più o meno Si è diventato gigantesco un po' scusa Ma io ho trovato un altro Chi è che non aveva il mirino? Io non ce l'ho Yezar vieni qua, te lo posso buttare giù Aspetta che non l'ho ancora visto Dov'è che avete trovato le armi? Tutto la scala Guarda un attimo se te lo posso, se lo vedi Qui Troppo bov Ah ma c'è alimentare pieno Vieni qua Vai Vedi un po'? No Non vedo niente Aspetta Sì, ok Ok Ma il mirino c'è Grazie mille Grazie mille Ma io non ho finito l'invento Ciao bigio È sopra nella cameretta Ragazzi ci possiamo passare le robe comunque Ma sì ma tanto c'è il mirino sopra per tutti A parte che perché ho due pistole fammene buttare una Non mi serve Esprit ti hai rotto i coglioni eh Che sono fatto? Guarda di correre contro la parete Basta Cosa dice? Impazzito? Eh vati da qui Esprit Che stupido io sono sopra Evati? Stai sporando io Ora non c'è niente lì Devo caccare Lasciarmi in pace Vai via da qui Ma non sono qua, sono alla stanza Finalmente Che cazzo bocca Ma siamo tutti nudi allora Ma c'è un mirino anche qui Finalmente si è levato È levato Da me sta correndo contro la parete 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 Quanti mirini Quanti mirini Da me sta correndo Da me sta correndo Oh caffetta Devi... Guarda mia orecchia per un bagadeggiotto che non vedo Ciao Fier Sei veramente la persona più stupida che conosco nel mondo comunque Io mi sono offeso Nel 4 però Se ti volevo fare un complimento dicevo altro Assolutamente Allora sì cosa faccio Morelli? All'inizio Proprio del mezzo ti dovevi fermare tu Amici avete fatto... Cosa ho sentito? Avete spruzzato Ma dai adesso la casa è tutta rossa da fuori Bello Che frase Siete veramente dei monelli Credo Credo non esista nessun gioco Dove se tu lanci un flare Non... Non passi attraverso le pareti la luce Mi permette grazie Ma basta questa radio però Ma non ti cogliori Ma qui c'è la casa dei puffi Ma perché tutti hanno radio? Noi puffi siamo così Crimoni e tutti blu Crimoni e tutti blu Crimoni e tutti blu? Facciamo su e giù Ma se no... Quanti ferici ci sono scusa Ah bisogna guardare nel capanno qui C'è il camionato e giù Capanno è qua comunque Ma c'è una prova eh C'è una pentola? Ah... Ok non si può notare Sizzur sei morto? Sei morto? Ti rispedisce sulla costa Mi si è confidato Ok No peter Ci sono le munizioni qua nel capanno E' sprit E' sprit E' sprit E' sprit E' sprit Che vuoi? Ci sono le munizioni nel capanno Ma l'ho presa già prima Ma l'ho presa già prima Ma l'ho presa già ero E' va bene Ringlo Ma abbiamo finito adesso L'ho presa anche quindi munizioni Ok Allora questa secondaria No si che no Prima era la notte L'ho presa E' andare Perché parte è dove scusatemi Non cadere L'ho presa sopra W doppia Di sinistra o destra Guarda su Ah della mappa è sinistra Ok è giusto allora E' la chiesa sinistra Bisogna andare Da farm Non è piccola la mappa comunque No non posso prendere una bici scusatemi C'è anche la città gigante La città gigante Posso poco l'imice con fare Non sembra essere cambiata la luminosità No no è cambiata Cambiata All'inizio era notte All'inizio era notte Andiamo subito Abbiamo un punto skill E' un punto skill Ah davvero? Si che mi sono sentito di livello Si che mi sono sentito di livello Io aumento Reloaded speed Survival Stamina Stamina Eh Da ho messo a ricarica più velocemente io Così un po' di prestigio Un po' di prestigio C'è un po' di win spotting Ho messo la stamina a rocher Amici ho buttato giù la bici Ho buttato giù la bicicletta Pelè Pelè E' un po' di E' un po' di Si metto il load speed anch'io Buon andiamo Guarda una cosa qua dentro No andiamo non ci vediamo intanto Abbiamo finito la missione E non fate Beh torniamo sulla Ma c'è un zainetto Ma c'è un zainetto Ah lo metto spotting Eh si lì ho già quella C'è una giacchetta Ma dai morelli C'è una giacchetta di pelle rossa Infatti vedete la cosa Ho fatto una cosa bellissima Questo è un zainetto piccolino Esprit per favore fammi vedere Ma hai la maglia di momma Wow Esprit E tu che roba qua dentro scusa Ne hai niente Dov'è? Qua Qua c'è uno zainetto Io ho trovato una giacca di pelle rossa Che mi son caduti gli altri E niente Non ho trovato niente Qualcuno vuole una giacca di pelle rossa? Pelle umana eh Senso di indiano quindi Si Una giacca di esprit Eh me la dai a me Probabile Credo mi possa stare bene Vieni qua morelli Anche se non credo tu possa droparmi una giacca Provo provo Drop Bob Non posso infatti niente Non andiamo 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 imbecille Si Ma guarda Iceprit che fa la cacca con i piedi Guardate quanto sono aerodinamico adesso che mi sono una rasata E' in silenze No ancora più Ok Pelle rossa è orrenda Saranno gusti Eh mezzo in teoria Si io ho una quella di dice mezzo per il giusto ma Però ora non lo sai Che vuole Franci che vuole Si si lanciano sicuramente però uno spazio di rinquinare Si si sicuramente Poi mettere non è tantissimo Guarda Sto rimpendo di flerr mi sto rimpendo Proviamo un attimo Ma sentite, è un po' difficile Perché sei un'impiota Sei un po' di coglioni di merda Perché sei un'impiota? Scusate Io dovevo proprio sparare i coglioni, Marco Che è quanto più sanno Ragazzi, anche voi avete visto volare via Dopo quattro anni giocate ancora con me Ho capito, Marco, potete spiegare un attimo Che tassino via però, scusa Ma scusa, mi trovate un altro membro Sono stato io, sono stato Ah, mi ha sparato a me No, ti ho sparato negli edi, ti ho sparato Come si fa? Eh, fammi curare Ah, ragazzi, abbiamo 18 medici Usiamo No, ne ho due Ma mi avete visto volare via? Io ho visto, sono partito via io Anche voi Siamo sparpagliati Non cura un cacchio, Marco Sono anni che sapete che sono stupido Tu mi devi 20 medici, adesso No, hai fatto che cura 25, cura Vabbè, ma ragazzi, che ci vuole? Dammi i medici, Marco Adesso mi legge per terra È più arco Tutti mi legge per terra, Marco No? Ma non cura 25, il medici cura di più Io mi sono curato fuori Cura 50 Eh no, a me è curato full A me è curato 25 Forse non ero al medico Ma avevo usato la pipetta Buongiorno, Lorenzo Ciao, bello La bustina Eh, a me è curato quasi, quasi 50 A me è 25, ha curato Dai, ragazzi, non succede più adesso Dai, forza Adesso lo sappiamo Eh, che lancio, Moro Ah, merda Ma porca miseria Sono i mortanetti Sono i mortanetti Ma bellissimo Sono i mortanetti Corri, scappa E ti fa la chiesa È bello, no? Stavo guardando lo spettacolo Pensavo fosse... Lo stick luminoso No, lo steampack Lo steep Qual è che hai lanciato? Scusa, il firework Il firework ho lanciato Aspetta Adrenalina shot Firework Dove hai il firework? Aspetta Titi, titi, tiriti Firework Titi, tiriti, tiriti Ma siamo cretini Ma che belli però, eh Amici, andiamo avanti, dai Tanto per adesso non ci sono ancora troppi Allora dai E allora vai, dai Che miseria È bello anche il suono Guarda che ci partono le dita qui Non si scherza queste cose E facciamo festa Tanto è la fine del mondo Bravo La domenica mattina C'è anche la chiesa, quindi domenica mattina ci sta Andiamo alla messa di... Domenica mattina No, non ne ho tutto questo Ma ti dicenti, che paura Avevo sentito il suono Lo avevo ancora provato io, scusa Ah, c'è gente? C'è gente? Eh, sì, sì Vabbè, chiudiamo la gente Chiudi la porta Ah! Non ci puoi, ci sono due Non si può, non si può, Moro Ma sì che si può Ma non c'è da premere sulla porta Guarda, all the door Vedete fuori? E' veramente una fangirl, Franz Le tengo una, me le tengo di radio Allora, dove andiamo? Io c'hanno sette, no No, ovest No, ovest Ovest si è basso quella strada Che schifo tro... Ah, un medikip Dove? Eh, ma io qua c'ho di nuovo munizioni da prendere Che palle Ma dopo un picco di qualcosa Scusa Volevo entrare nel furgoncino Ma dopo Marco mi cago Ma lo faccio lo stesso Come vedi? Il furgoncino di Trombe, ricordiamo Ehi, ho trovato un... Amici, ho trovato le Timberland Le metto subito Di cosa? O quelle... Sono belle lo stesso Ma esattamente Qual è lo scopo del gioco? Sopravvivere contro... E in teoria sì, dobbiamo sopravvivere E fare le missioni Stiamo facendo i punti Dovevo trovare, in teoria La... Lui che si può vissuto In teoria Eh sì Alla fattoria Guarda lì, segui la strada Mi credo sei un veicolo Che va sulle strade Esprit, lo sai che io delle scarpe rosa Erano perfette con la tua giacchetta? Eh, ormai Ma quello è un carro armato Lo voglio Eh, è rotto Jezzer Non lo voglio più Ma io lo voglio lo stesso Lo vuoi mettere in casa? Ma non c'è una torretta Ci vivo dentro, no? Figura bella Qui c'è un morto Credo sia quello Che guidavo il carro armato Questa è una fattoria Questa è la forest Cos'è quello? È un dolottone Ti spacco, eh! Eh, voglio vedere Voglio vedere i robottoni più grossi, amici Voglio giocarsi Eh, ma lì iniziano Facciamolo tutte le mattine Facciamolo C'è di bastardo, eh? Dai, non è successo ancora una fava Ma mi sta piacendo un sacco C'è un collectible Ah, ha shotto noi comunque C'è un mitra Ma io ho visto muoversi delle robe all'origine C'è un collezionabile Ho trovato il mitra Ah sì, anche io Ah, è collezionabile E tolgo lo shotgun Io non tolgo, dai Però lo tengo appunto nel inventario Ti ho trovato Eh, non ci sarò Ma ora No, non sono io, ragazzi No, ma è il passaggio Ah, ok Al culo mi sta cercando di vedermi la mano Eh, no, eh Esprit, arrivo Sono qua C'è di Ezra mi blocca sempre il passaggio G4 Ma sono morti tu? Allora, che mano... Eh, io mi seguo la mano No, non adesso Esprit, stavo lutando Eh, stavo lutando Eh, stavo lutando Eh, sento un rumore più grosso Non c'ho colpi del mitra Ah sì No, non ha colpi del mitra Zitti, zitti E' zitti E' zitti Non si sente più niente Esprit, se non stai zitto Ti ammazzo di botte Adesso, vedrai No Marco, non puoi farlo Poi, hanno rotto i coglioni di una vita Siamo usciti Erano già tutti morti Ci sono due mitra Ma stai zitto Deficiente Ma tu deficiente Siamo fuori Sei scemo, Morelli E i peccativi sono gli umani Come in The Walking Dead Poi, l'armarco No, dal day one Proprio, non è che... Oh, ma... Io non lo sapevo Eh, vabbè, moro Te l'ho spoilerato Alla fine, gli zombie sono... Gli umani Gli umani sono gli zombie E io zero Dooo Non c'ho scritto Non c'ho scritto Amici, ma c'è una sedia in mezzo alla... Ah, no, una macchina Ma no, mi stavo incastrando Che palle Occhio a non aprire le cose vicino agli altri Che rischi di incastrarle Vabbè, basta a richiudere Ah, che ci vuoi fare, Ghezzo Ah, merda, ho finito l'inventato Dove andiamo? Ah, devo droppare dei item Fammi buttare via C'è una macchina, là L'unica cosa che mi sta furbando A me di sto gioco È questa patina Bianca Che c'è su tutto il... È vero, un po', sì È un po'... Mi dà un po' fastidio, però Se trovi la maschera antigassi è ancora peggio, poi Ce l'ho la maschera antigassi E mettila Ah, ma io c'ho una cella IMPI Credo Non c'era il nostro, sono una... No, aspetta Forse era... No, era quella... No, non è vero Perché poi mi sono incastrato Mi sa che... Aspettatoli, guarda via Qui c'è una macchina L'avevo presa nel... È in grado L'avevo presa Comunque... Non abbiamo luttato tutto È bello che ti dice anche... Se hai luttato tutto Sì, fammi rimuovere il... 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 Inizio Scusi... Ma mi stanno spingendo Ad un'altra parte Va bene Per rumore falli È silenziato quindi Broco Io no Una giacchetta Questa è quello che ce l'ho già Si del quale di giacchete Parlami Ma abbiamo una missione dove andare o stiamo andando? Eh, dove andare? A ovest è una fattoria, Marco. Bisogna seguire questa strada, però. Andiamo da ovest. Stiamo andando... di qua in realtà è tran... Oh, vabbè, è ovest. Per seguire la strada. È ovest, però ha chiesa. Peretti, peretti. Peretti, peretti, peretti. Peretti, peretti, peretti. Ma è bruttissimo se non c'è la pompa e tu? Poi, boh. È un ruolo. Hai digerito, Esprit? È un ruolo. Quindi, la loro e le... Che roba sono un esperimento dell'Ikia finito male. Esattamente. L'avevo già letto, Morelli. Io l'avevo già letto. Fossero di legno, sì. Ma non stai aggando un pochino stai aggando in gioco? No, vedo tanto il passo in più degli altri. L'ho visto fare anche prima te, anche a Moro e anche a Liezar. Mi sa che il gioco... No, anch'io prima comunque ho visto... Oh, c'è una casetta distrutta. Dov'è? Piripi, piripi, piripi... No, credo proprio. Ma ci sono delle... Quante punizze. Ma è uguale lo stesso capanno dell'altra casa. Ma basta. Vabbè, i capanni sono standard, Marco. No, no. Lo disinstallo, ragazzi. Ma è veramente un altro capanno completamente. No, infatti, non lo so cosa hai visto prima, Marco. Ma non è vero. È uguale. La casa prima... La casa prima era identica. Il fatto è che i capanni... Marco, non farlo! Marco, non farlo! Mi schiacciano! I capanni sono uguali anche nella realtà comunque. Ma poi non è vero che ero uguale. Era uguale identica all'altra casa dentro. Oh, è esposta! Comunque io ho trovato 120 punizze. Ho trovato t-shirt rosa, io sono tutto rosa adesso. 120 punizze del micro l'ho trovato. Mi è scrasciato! È scrasciato? Perché qualcuno mi ha dato un pugno, l'ho visto! È male un pugno, guarda! Bastardo! No, io ero fuori! Ho preso le scarpe di pelle! Stavo correndo fuori! Adesso vediamo se ti fa risuscitare... Eh, mi sa l'inizio. No, ti fa risuscitare all'inizio. Ma se hai detto... Ma quello è ancora stronzata, però. C'è ancora una visione di conclude, Betan. Eh, aspettiamolo sto parlando. Però fa cacare, sta cosa. Davide, devo dire che riparti dall'inizio, ma non ha senso. E bisogna che abbiamo fatto poi il signor Cosa Nappa. Che fastidio! Allora... Multiplayer... Ma non ho visto, è ancora che ci sono anticipato questo gioco e... Penso di sì. Eh, mi viti, Esprit. Vedi un po'? Stenaga... Eh, aspettiamolo, aspettiamolo. Nooo... Occhio che ti riattaccano i tucciamanubri, eh. Multiplayer... Se poi ci sono pure lì, vedi? Perché appunto è un po' diviso il... Il loot. Pipipipi... Eh, si si, perché all'inizio si installa, sì. Ma perché si installa? Io voglio giocarsi per sempre, sono all'inizio. Un chilometro e ventidue. Ma io scavalco le montagne qui adesso. Ehm... Noi dove siamo? In questo momento qua... Ma ad incontro a Morelli si sa mai che gli sparano le gira... Ma no, tranquillo, passo per i boschi. Non mi vede nessuno. Allora la sinistra sarà... La stena che farm... È stata tutta guarda la sua mappa segnata. Occhio che ce ne erano alcuni anche tra i boschi. Che altro, non è che ci si può tippare magari... Fast Travel, ma vaffanculo allora, guarda. Vado direttamente alla chiesa. Eh aspetta, ma sblocchiamo... Ah no, perché quando sblocchi i punti di interesse... E lì ha fatto lì, ragazzi. Ah buono, buono, dai. Dov'è? Eccoci, sono qui dentro la chiesa. Ah vabbè, il problema non è nulla. Ah no, sì, sì. Quella l'avevo già vista. Eh, sblocchate... Eh magari... Ah vabbè, andiamo, andiamo, andiamo. Semplicemente non... A me piace tippare, tippare, tippare dappertutto. Semplicemente non calcolo il fatto che ti fai partire appunto qui da noi. No, vabbè, ma è giusto, in realtà non va bene così, eh. All'altra non va bene così. Eh oddio, vengono benissimo, però... Beh. Stiamo schiacciando tutta l'erba, guarda qui. 25 lutti. Che lavoro. Adesso vediamo un po' se il prossimo... Vente, occhio. Vorrei essere poi... Fatti qua. No, e forse no, perché deve scolarla lui. Può essere, sai, eh. Può essere. Può essere anche essere. Eh, quello è un cane. Un cane. Eh... Esatto. Un cane. Un casino. Scusa il mitra. Ho rotto. Scusa. Fatemi scavalurare. Perché c'è proprio fortissimo ovunque. Altre? Avessi più munizioni, ne ho quattro. Io di mitra adesso ne ho 120. Perché mi sa che quelli del mitra sono le stesse della pistola. Cavolo, quanto c'è da esplorare quei ulti? Non so che sì. Eh, no. No, mi sa che devi venire pure. Vabbè, starà arrivando immagino. Allora, è tantissimo. Non eri così distante. Vabbè... Che paura gli Ezra. Che paura gli Ezra. Perché mi aspettate, però 700 metri. Sì, ma se può aprire tutto, se può aprire tutto. A me piace piccare, piccare, piccare dappertutto. Cosa c'è? Qui non c'è niente. È sempre utile perché continuiamo a perdere vita. Vedi, allora, amici... Comunque, ufficiale, il piano di sopra, non le case, ma il piano di sopra è sempre uguale con le stanze. No, ti giuro. È sempre uguale il piano di sopra. Ma se nella città... Se nella città dell'IKEA è ovvio che le fanno tutte uguali. Effettivamente sì. Beh, effettivamente ci sono i posti dove tutte le case sono tutte uguali. Non dovrebbe essere questo il caso, però... Aiaia, mi pruda la mano. Ecco, qui ti posso dare ragione. Qui c'è un rudere che è identico a quell'altro. Ma no, ma ti ho detto, anche il piano di sopra è che la prima casa era più grande. Beh, ci si sa anche di utilizzarli, comunque, fare una casa ogni volta diversa... Non so da chi è che prodotto questo gioco non è. Ho trovato un cappellino di canchio, ma che schifo. Ma non c'è niente sta casa, scusa, non c'è niente. No, sono molto vuote. È vuota sta casa. Se prendete i serbatoi sopra i roboli, shottate. Ah. E infatti ecco perché vuote li shottate. Ho trovato un explosive tank. Bronzol. Ma ci pensavo per quello. Ma non c'è niente, non c'è. Sono un punto vuote sta cosa. È un po' di strada grande io, eh. Quello che lo porto... Mi piace bombare. Sono solo le munizze. No, neanche vuoto qua. Salve! No, no, no. Certi Q, no? Certi Q, no? Certi Q, no? Può aprire tutto, è figo. Sì, non in cassette. Ah, ma questa è la casa di Jimmy Neutron. Adesso ho capito. È una scacchiera. Niente? Eh! Sono arrivato quasi. Ah, c'è da sentire un messaggio! Anita's message to her parents. E di moro. Ehi, disegnita, sono solo con... Eh, ok. Aspetta che sei inglesista, leggimi... Ho trovato un giornale. Ah, questa è identica, questa casa, eh. Questa è identica, aspetta alla prima. Questa è veramente uguale, anche l'altra stanza. Che vuoi andare? Alla... Maiale salato? A prosciutto salato. Come stile in audio svedese, voglio sentire. Poi provo. Metti il play, te lo fa ascoltare con i sottotitoli anche mentre giochi. C'è l'arma qua. Un shotgun verde? C'è l'arma verde. Eh, la realità. Sopra... Ah, questa è la realità, sì, è vero. No, semplicemente mi porto, ok. Meno tempo. Eh, punto. Eh, vabbè, quindi la realità. Eh, vabbè, troppo uno shotgun perché non mi serve. A me piace bombare. In casa c'è una shotgun, se non serve, non ce l'ha. Fammelo vedere, Esprit. Abbassati i pantaloni. E' normale, è più impulito, Marco. Raffi Dark, basta il volo per farvi un saluto. Ciao Raffi. Grazie. Buon lavoro. Grazie mille Raffi, grazie mille. Buon lavoro. Ma non c'è, non c'è davvero nulla in sta casa. Fate l'arma. Mi piace bombare. Entrate nella fattoria, amici. Aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta. Pazzo però il lockpick mi serve. Qua cosa c'è? Io sono, sono Lois, Marco. Un hunting rifle silencers. Ah, verde, questo. Ah, verde. Io ce l'ho normale, però va bene. Come lo mettere? Butto via quello che ho. Ma è verde anche quello che ho. Amici, io ve lo butto per terra. Drop above, tienete. Ah no, era un... Monsieur hunting rifle. C'è lo stesso che ho. Chi è che ci toglie per terra? Lo stesso che ho. E basta. Ora, controlla tutto che è pieno di scatoline. Ah, potete togliere le munizioni dalle armi che trovate in giro. Anti rifle verde. Ma io non ho trovato più armi. Ma ce l'ho già in più. Ma ce l'ho già in più. Ma ce l'ho già in più. Ma me lo droppate se ne avete due. Sì, tieni Marco. Hai un silenziatore? Non ce l'hai il silenziatore, Marco? No, il silenziatore ce l'ho. Non è verde. Ma piove. 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 È vero, piove. Ho sentito... Ma è bellissimo. È stato il suono... La pioggia sui vetri. È stato veramente bello. Ma da me non piove. Da me piove. Sì, sì, sì. Da me piove. Eh, perché forse te l'hai già dato alla sessione. Sei un po'... Diverso da me. Ma che amor di... Ma perché c'è un cesso qui? Vabbè, la cacca quando scappa scappa. Ah, lì? C'è un cesso. Io mi sono veramente fatto la cacca dopo. Eh, se uno deve farla. Lavorando uno deve farla. Eh, va in casa. Vedi, questa casa è diversa, Marco. Eh? Questa casa è diversa. Quale? No, in realtà no. È uguale quella lì. Sì, no, è simile alla prima, è vero. Eh, basta, Marco. Ti c'è giù qua. Eh, spirit. Io sono un tipo eccezionale, veramente. Vabbè, ci saranno 3-4 asset. Ma non te un gioco tra Marco, sei bravo. Ma io non li faccio i giochi. Che mi frega. Io sono... Non sono addetto a farli. Io devo giocarli. Certo. Facile dire così, eh, Marco. Eh, facile. Certo. Sì, sì, sì. Non li devo fare. No, ho fatto take all. Non volevo. Che schifo. Vabbè, ormai. Ti vedo di che trovo non posso aprire, ragazzi. Non è che mai il loot adesso è in comune. No, non è in comune. No. Io sono ripassato nelle case in cui non ce l'ho ancora stata. Se sei stato in voi, ho trovato. Guarda, guarda due volte. Mi sono fatto male. Mi curo. Boh, io ho risplorato tutto. Ah no, mancano i veicoli. Aspettate, anche i veicoli si possono. Salve. Fiori un pochino. Mi piace bombare. Bombare. Bombare ma di brutto. Piccare. Piccare dappertutto. Mi sembra che abbiamo tutto esplorato poi, no? Eh, guarda i veicoli anche, perché anche i Tannos possono. Io devo andare ancora dentro la casa che voi avete esplorato. I veicoli puoi aprirli. Posso usarlo? L'ha detto, Esfi? Trattore. 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 Ho capito una cosa gravissima, Esfi. Eh, Marco, tu mi sembri malissimo. Ah, il silenziatore. Ho trovato Final Mount. Penso che sei artista, Marco. Final Mount. Possiamo farlo. Ma questa è in bomba. Bello che puoi prendere l'estratore e non c'è dentro niente. Che è che ha sparato. Sì, schifo. Ti immagino una testa di palla. Quanti colpico dentro? Un lockpick. Che non è ancora servito comunque un lockpick. Quindi boh. Eh, neanche io ne ho preso uno prima. Vabbè, ma scontro all'inizio. Salve? Buono, andiamo? Quanta roba c'è qua dentro? Quanto ci vuole, non c'è niente mai a casa. Tu non c'è niente. Ho trovato il silenziatore. Ho trovato il silenziatore. Ho trovato il silenziatore. Ho trovato il silenziatore, se vuoi. Andiamo per favore, grazie. Non me li dai. Scusa, va, il kit medico. Quanti, veramente, quanti colpi qua dentro? Eh sì. Vendo tutto. Hai visto? I pantaloni rossi. Ti ho fatto i pantaloni rossi. Ok. Un zaino rosso hai trovato i pantaloni rossi, eh, esperituale. E' vero, Marco. Un campione. Ma io voglio i pantaloni belli, ho trovato i pantaloni verde mucca. Hai trovato? Hai trovato? Ma metto il cappello! Marco, però questa casa è uguale a quella dell'inizio. Soprattutto la vergogna, schifo. Peci. Marco sono bello. Che è sto rumore? Marco sono bello. Hai la pioggia, la bufera. Ok. Marco. Dimmi, dimmi. Hai bisogno? No, fai veramente vomitare. Esprit, potessi ucciderti lo farei. Ti assicuro. Non dire che spari, che sparchi le munizioni. Vabbè. Un drogato, le munizioni sono preziose. Sarà la moneta di questo mondo. Le parole sono importanti, eh. Perché adesso sono vestito bene, adesso. Comunque, amici, se mai dovesse succedere una situazione catastrofica, conservate tutti i tappi di bottiglia che potrebbero servire. Ok, Marco sono vestito bene. Eh? Sei vestito... Guarda, sei un pagliaccio, però vabbè. Eh... Dovevi esprit, mi devi dare il tempo che mi serve, però. No. Andiamo. Ciao, Demo Fonte. Devo andare, adesso ci c'è di andare. A parte che andiamo in cima alla montagna, che c'è la rovina in cima alla montagna. Voglio spolarla io. Andiamo alla rovina in cima alla montagna. E qua. A Rovigo, andiamo a Rovigo, dai. Andiamo a Rovigo. Ma dove dovremmo andare? Che forza che ha questa donna. Quelle missioni dobbiamo andare oltre... A... Saltami. Beh, dopo ripartiamo da qui. Dalla prossima volta che facciamo... Amici, ho veramente un sacco di medici più, comunque, eh. Conviene che vi faccia male di nuovo, quasi. No, non faccio male io a te, bastardo. Aspetta Marco, facciamo subito. Si scemo? Come si lanciano le cose? Col pasto? Le metti nel numerino? Ah sì, le metti nello slot e... Cos'era? Era una carica IMP. Un MP era? Ma magari serviva, era una cosa per finire il gioco. Volevo vedere come funzionava. Come se si sale? Qua, qua qua qua. C'è la strada. Amici, ho un'idea. Non siamo dei bravi... Supervisori. Lo sapete. Io vi ho persi. Ecco. Aspetta, di qua si fa il giro. Ma cosa? Ti dicevi io... C'è il nostro... Si, li ho visti, li ho visti. C'è il nostro... Però piove, io sarei stato in casa. Calmo, calmo. Ho detto che ti segui. Eh... Ma prima deve finire di rimproverarti Marco. Si si, ma peccato che l'altra volta lo uccido su Rainbow. Guarda. Devo ammattarlo alla fine di Rainbow. Guarda. Ora è lì? Ok. Ti ho visto in che stato? Non c'è... Non c'è... Non c'è... Non c'è... Non c'è... Non c'è un culo di gioco. Non c'è un culo di gioco. Non c'è un culo di gioco. Se avete fatto cadere fuoco. Oggi mattina a colazione. Ti avevo saluto. Mets! Non posso salire il gioco. Amici, io non posso salire. Non so come... Grazie, bluplone. Grazie mille. Ehi, ball. Non è il castle. Come? Grazie, Matt. Venite qua dove sono io. È una cortesia eh. È un castello. Cazzi, prima mi avete tirato un calcio mentre salivo. Non riuscito più a salire. Eh, ok. Ti sei fatto male. Adesso avreici... Oh, esprito. Ti dai una mossa però... Eccoci. Già che sei vestito da... Becino. Sono velocissimo. Ma che vuoi? I biondini, Nare. I biondini! Ma che è questo? Aureli! Ok. Aureli! Ma che castellone! Aureli! Ok. Se vuole. Non si può aprire, questo! Ma che pegatura. Magari sono entrata sul di dietro. No no, ha già fatto un giro. No, ha fatto un giro. È un po' di più questo qua. 10 che ci rende scarti, comunque. Dove si sale? Ma c'è dell'erba volante qui! È il pantano. Bellissima. Marco Pantano No amici sono Ho due HP Perché? Perché sono caduto da un sasso basso E mi ha fatto perdere tutta la vita No mi sa che bisogna fare il giro d'altra parte C'è qui quella forma di vertebra di moffetta Metti il piedino qua Aspetta che mi devo curare Devo curare Mi devo curare Se no mi faccio male Cosa è successo? Ma gli Ezzer dove è andata? È quello che è successo a me È quello che è successo a me Marco di qua sono io di andare Sono vivo Sono vivo È quello che è successo a me Quello che ha fatto gli Ezzer adesso Comunque Ma gli Ezzer è stato sparato in Marco Segui dritto verso di me Non dai di me Ok vai vai Marco Poi? E dove è verso di me devi andare Ehm Guarda un attimo qua sopra Ha provato il giro non l'ho fatto Marco Di qua di qua Dall'altra parte vieni qui Porca puttana Qui eh? Sì Ma è ricominciato a piovere Ma che piove Da me non piove Da me piove Eh E' più ovvio Eh eccomi qua buonasera Bisogna che sto Sono Gastone Aspetta che riprovo A me piace tu No non mi fa più saltare L'ho saltato qua Eh vedo mi da un segnalino di pericolo Sì c'è qualcuno E dobbiamo fare il giro di qua Aspettate voglio check-in-arli Ma non li vedi da qua Ma perché siete già là e io? Non li vedi? Amoro sei qua con noi tu Ah no Lì è zar questo Sto cadendo pure Ma vuoi check-in-arli anch'io Non li vedo Adesso c'è chino anch'io Che c'ho 100 colpi Come 100? Siamo tutti silenziati Ah qui qui Questa è un po' di traverso Però Siamo a 6 che ti va di traverso Come ho visto il cuscire Lo vedo lo vedo Ecco ce ne sono due Ma cos'è il laser? Ma veramente fa rumore del laser col silenziatore comunque E' sopra uno Ho rotto Dai senti è il laser Ok spoliamo qua Spoliamo C'è una cassetta Allora Ma non ho capito Perché non si può fumare? Ma liether sei un tossico No guarda qui c'è un cartello sul tavolo Non si può fumare Amici c'è un altro nemico Ma scusate Ma il mirino A voi Ah con la rotella si zoom Amici Marco Muore Muore Dove siete voi? C'è un altro C'è un altro che arriverà Ma c'è un altro cambio delle tromboli C'è un bobbottone qua Non ho veramente canto Potemi ruotare Aspetta non ho ruotato un cazzo C'è un altro E' andato sulla strada Orca miseria quello lassù E mentre ho giusto iperterra Marco Ah lo vedo Ok Ma gli ho fatto esplodare la randola Ma tu non mi che è morto Allora sei Marco Eeeh Sono con Moro Si sono qua C'è un altro eh Sto cercando di lootare ma mi sparano E' dietro E' dietro E' dietro Ok niente Ah è qua 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 Mi fido nel camion Probabilmente un railgun Ma è vuoto il camion che malazzo Ma Merda questo qui Cosa E' successo E' animato Arrivo Morto Chi che ha sparato E' quelli là sono più duri Comunque sparandogli nel serbatoio non muorono Non si shottano eh Io ho shottato Quanti ce n'è però No dipende Perché io prima glielo ho fatto esplodere il serbatoio ma non Ah dove stai andando Aspetta c'è ancora gente sotto Ho fatto esplodere Eh ma non Avevo parlato solo un camion Ma poi è dentro del castello Quindi violenza proprio In realtà sono andato a lootare Sono andato a lootare i robot Io non sono andato nel castello Che poi mi hanno attaccato Sono quasi salito di livello Niente Eh anche io Non so Ma non so Ma non so se si Se i robot Sano di livello o no Ah gente 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 Eh si I robot I robot Sali di bidello Non ho mica colpito E' uno Eh dipende quale colpisci eh Sono tutti uguali come vita Mi sa che non c'è molto qua nel castello E' un altro Ma non è possibile che non c'è molto Eh è tutto dirocato Ma poi sti posti sopra davvero In sbibere Magari si Ahia che male mi ha fatto Ah io ho fatto Ah io ho esplodere il nostro Ah no Non sono caduto per te Sono tantissimi Sono veramente male Ah moro giustamente Con l'air pili disattivi probabilmente Eh certo che è disattivo E' ottima allora E' una granata vera No 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 C'è uno piccolino C'è uno piccolino C'è uno piccolino C'è uno piccolino Perché non mi fa lootare Merda merda Ahia C'è uno piccolino C'è uno agneccio E' pieno di cazzi qua E' un matti Quanti erano? E' erano veramente forti Posto? Almeno c'è un po' di sfida comunque Sento del casino atroce Qualcun robot si è bloccato Si è bloccato La porca miseria di cacca Guarda E' l'obiettivo del gioco Per adesso è fare le missioni e sopravvivere Per non esplorare Sì Esplorare E' un survival Uh c'è una torre C'è il Tor Unico Vediamo se c'è qualcosa Dai super ci sarà qualcosa Sky non sai Non sai Che fatica Non c'è niente Non c'è veramente nulla Ma che sfida Salto Aia che vale Amici ma il mitra che munizioni ha Quelle delle pistole No Non sopra ne trovate tante No io non ne ho per il mitra C'è sotto là Della roba Andiamo a vederla Aia Che fatica a fare le scale Ah si fa male anche carendo Non c'è niente sopra me Non c'è nulla Qui sotto C'è pochissima vita tra l'altro Ma si Ah da qua Ah sta simulando Ok Grazie Gilgamesh Grazie Gilgamesh Grazie Qui c'è roba Ah dove sto andando io Pidì ma È l'unico posto che c'è roba Allora vediamo Se può entrare Grazie mille Aia 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 Metà vita ho perso Ti occhio Ho anche un po' di Biglietti di altri che sono vissuti Di andare a cercarli Poi ne troveremo Bambi non so Però non ha nessuno vivo Sono in città In altri che hanno vissuti Quindi dobbiamo andare Ah ma è lo stesso asset Qui c'è un binocolo E se stiamo solo Puoi anche sparare brevemente Andi location Of the scarved bunker Ecco E' un bunker o no Trovano bunker è lontalissimo è abbastanza è al quarto posto della natta anche io abbiamo i polli di carta la prossima volta andiamo tannita quindi ah ma che sta arrivando il sole che bello da me piove no non è vero no si sta arrivando il sole anche da me tra l'altro le bende me le mangio e diventi infatti c'è standard first sight kit e simple first sight kit ecco perchè è a 50 e poi amici lo sapete qual è la cosa più bella di questo gioco che non c'è un cazzo da craftare trovi e basta si cazzo sono stupido non so craftare le cose sono idiota vabbè possiamo anche che trova per oggi si ebbene dovremmo aver trovato questa zona la partita è di esprit giusto? si parte da qui si parte da prima dalla farm noi troviamo della farm partiamo dalla farm si si poi dall'inizio si spostiamo lì andiamo avanti bene dai bello dai marino carino vedremo un po' però adesso in realtà non è successo granché vediamo cosa e poi si salvavano i robottoni grandi tanto personaggio lo salva quindi nel trailer con i lanciarazzi magari beh io dei trailer mica mi fido ma lo ti 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 è successo molto bellino vabbè è stato un'ottima idea terribile amici grazie a tutti quelli che hanno seguito la live noi ci vediamo questa sera probabilmente con uno con uno si probabilmente con uno e niente amici buona giornata buon inizio di fine lavoro lavoro ciao belli aspetta che sono in finestra senza un schermo aspetta devo chiudere